Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, Lucca ospita nuovamente queste importanti finali, il tennis, il grande tennis, torna in città, che momento stiamo vivendo? Un bel momento, questo è un bel momento per lo sport, lo sport abbiamo sempre detto che costituisce una delle attenzioni per come possiamo, per la nostra amministrazione, il fatto che Lucca sia stata scelta per la seconda volta per ospitare le finale di tennis ci riempie di orgoglio e ci onore, da parte mia un ringraziamento agli organizzatori che hanno ancora una volta scelto Lucca, la Toscana è stata più volte scelta per queste finali, Lucca lo ripeto per la seconda volta, significa anche che c'è una capacità organizzativa significativa se chi poi provvede a queste scelte ci ha individuato ancora, speriamo che il palazzetto sia pieno perché poi è bene che il palazzetto sia riempito, in quanto queste finali sono innanzitutto uno spettacolo dello sport, qualcosa che inerisce a ciò che lo sport può dare al meglio, quindi al palazzetto cerchiamo di essere presenti per rendere veramente omaggio alle finali che vengono qui disputate.